Tre arresti per furto aggravato in concorso sono stati effettuati dai carabinieri della Radiomobile di Cammarata nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. Si tratta dei palermitani Vincenzo Carbonaro, 47 anni, Giuseppe Guddo, 23 anni e Riccardo Ragusa, 26 anni, sorpresi all'interno della dimessa fabbrica Italcali in territorio di Casteltermini, intenti ad asportare materiale ferroso per circa 2.000 chili e per un valore stimato intorno ai 3.000 euro. Vari attrezzi da scasso ed una fiamma ossidrica artigianale sono stati inoltre sottoposti a sequestro. Per i tre ora si attende il giudizio direttissimo disposto dalla competente autorità giudiziaria.